Tutto inizio quando in classe i miei compagni cominciarono a prendermi in giro per il mio aspetto. Ma si è venuto! Oggi parlo proprio molto! Lucari! Ciao! Oggi parlo un wish via capo! Una sera dopo cena vedi una bottiglia sul tavolo. Quando i miei genitori se ne andarono, la presa inizia a bere. Ciao Francesco, noi stiamo andando via! Ciao Francesco, mi raccomando metti tutto a posto! Mi raccomando a chiare! Ciao! 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 Lascia questa cosa! Oh, ma non mi stai la cosa! Non mi stai la cosa! Avevo una fidanzata, lei cercava in tutti i modi di aiutarmi, ma un giorno feci un grande errore. ma non mi stai la cosa! No, non mi stai la cosa! No, non mi stai la cosa! Lascia questa cosa! La rismetti! Non lo so! Grazie a tutti